In occasione delle celebrazioni eucaristiche per le festività natalizie, le sante messe quest'anno si terranno alle ore 20 del giorno 24 dicembre. Per dare la possibilità anche a chi non potrà presenziare alle celebrazioni, l'emittente televisiva Cilento Channel trasmetterà in diretta televisiva sul canale 636 Cilento Channel, sulla pagina Facebook Cilento Channel e Smart TV le funzioni religiose. Il 24 dicembre alle ore 20 la santa messa sarà trasmessa in diretta dalla Chiesa Santissimi Pietro e Paolo di Agropoli, il 25 dicembre alle ore 11 e 30 dalla Chiesa San Marco Evangelista, mentre alle ore 18 dalla Chiesa Santuario di Santa Maria Mare in Santa Maria di Castellabate. Restano comunque consentite le visite e le celebrazioni in presenza nei luoghi di culto, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme anti-Covid-19.